Comunque, ti ricordi quando m'hai detto che non sapevi che cazzo avessi in questo periodo? Effettivamente, io non ti ho detto una cosa. Quale? Che mi piace una persona. Emma. No, non è Emma. E chi è? Non l'hai capito? No, Marti, non si capisce un cazzo quello che pensi in questo periodo. È sana. Sana? Come? Che ne so, magari nello stanzino della radio fa degli zozzoni. No, no, non è sana. Allora non lo so. Ti do un indizio. Sì. Ok. Non è una ragazza. Danilo, mi salve tutto in festivo nel difensore che ti accetta al passaggio. Sono io. Tu? No, 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 non sei tu, no. Vabbè, scusa che ti faccio schifo. No, mi fai schifo. Però non sei tu. Non giochi. Quei ragazzo che ti ha ridato le cuffiette in palestra. Vabbè, figo. Cosa? Vabbè, mi sembra un bel ragazzo. No. Che ti devo dire? Sì. Scusa. Non lo so. Vabbè, che fate? State insieme, uscite? Come stai? Ma in realtà è un po' strano lui. Prima aveva una ragazza, poi mi ha detto che l'aveva lasciata, poi il giorno dopo mi ha scritto che stiamo correndo troppo e poi li vedo che si baciano insieme a una festa di Covitti. Non ci sto capendo più un cazzo. Vabbè, forse... Boh, sta affacciando un po' lo stronzo. Sì. È il mio? Ah, lo chiedo. Senti, ma ce l'avete ancora i bigliettini sulla legge di Gauss? Che ieri mi è cascata la stampante e sta spaccata. Io li buttati, sì. Tu li dai. Sì, io ce l'ho. Aspetta, mo' vedo. Se li trovo... Beh, intanto ve ne faccio uno io. Eccolo qua. Ah, trova, die. No, ieri. Che, trova, no. Le alite Finiamo? Certo Comunque Secondo me Dovrebbe lasciarla la teva Dai gioca Secondo me Dovrebbe lasciarla la teva Mi 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 Grazie a tutti